. Accuse a Monte, Cecilia Rodriguez, non è più il mio fidanzato, che caos me ne frega. . Non c'è verso di chiedere a Cecilia Rodriguez di commentare lo scandalo che ha travolto Francesco Monte, determinando il suo ritiro prematuro dall'Isola dei Famosi. . Lo dimostra un video registrato ieri sera durante un party organizzato a Sanremo, località che la Rodriguez ha raggiunto per ispirare l'area del festival e prendere parte ai numerosi eventi satellite a esso collegati. . Cecilia si lascia intervistare, fino a quando il giornalista le chiede di commentare quanto accaduto a Francesco sull'Isola. La Rodriguez letteralmente scappa dalle telecamere, non prima di aver risposto, non è più il mio ragazzo. Parlasse chi deve parlare. Che caos me ne frega a me. . Cecilia Sanremo con Stefano Monte. . La cosa curiosa è che il tutto è avvenuto mentre, a pochi metri di distanza, c'era Stefano, fratello di Francesco Monte. . Manager di Cecilia, il giovane la segue durante questi eventi ed è normale che assista anche ad alcune delle sue interviste. . Per niente disturbato dalle parole utilizzate da Cecilia, Stefano è stato visto continuare a ballare e sorridere con l'ex fidanzata del fratello, a dimostrazione del fatto che la loro rottura non ha condizionato il rapporto professionale preesistente tra loro. . In foto, Cecilia Sanremo con Stefano Monte. . Si sono lasciati con il GF VIP. . Cecilia e Monte si sono lasciati in seguito alla partecipazione della modella al grande fratello VIP. . . Nella casa, sotto l'occhio vigile delle telecamere, la Rodriguez ha conosciuto Ignazio Moser, innamorandosene, al termine di un periodo tribolato durato qualche settimana, ha deciso di lasciare Francesco a favore di Ignazio. . Oggi, circa tre mesi dopo quel momento, i due stanno ancora insieme. . .